Ovalip deve essere conservato in frigorifero fino al momento della somministrazione e deve essere lasciato a temperatura ambiente per 5-10 minuti prima di ogni iniezione. Dopo ogni somministrazione, riporre il dispositivo in frigorifero. Quando si apre la scatola del farmaco, troveremo un flacone di vetro che contiene un liquido trasparente e degli aghi necessari per la somministrazione. Nel vostro centro Istituto Bernabéu vi avranno fornito il dispositivo con il quale dovrà essere somministrato il medicinale. Per la somministrazione di Ovalip 300 o 450 unità internazionali, svitare la parte superiore del dispositivo e girare la filettatura inferiore scura per estrarre una specie di pistone. In questo pistone bisognerà porre il flacone di Overlip. Dopo averlo posto, svitare la parte superiore del dispositivo affinché il flacone resti all'interno. Porre l'ago sotto cutaneo ed estrarre le protezioni. Prima di ogni somministrazione è necessario far fuori uscire l'aria dal dispositivo. Per farlo, selezionare nella parte superiore la dosi di 12.5 e spingere verso il basso il pezzo verde intermedio, che si trova nel dispositivo, e si osserverà una piccola quantità di medicinale fuori uscire dal lago. In seguito, girare nuovamente la parte superiore del dispositivo per selezionare la dose indicata dal ginecologo. Il farmaco deve essere somministrato mediante puntura sotto cutanea nell'addome. Prima dell'iniezione, disinfettare la zona con alcol e pizzicare l'addome prendendo una parte di pelle. Iniettare il medicinale premendo verso il basso il pezzo verde intermedio, scaricando la dosi selezionata, e successivamente premere sulla zona con del cotone imbevuto di alcol. Dopo la somministrazione estrarre l'ago e gettarlo nell'apposito contenitore.